Assessore, allora si va verso il mese di agosto, c'è il rischio che ci possa essere un rallentamento nelle vaccinazioni oppure tutto proseguirà come è stato fino ad oggi? La regione Abruzzo sta continuando la campagna vaccinale, così come anche emerge dal report nazionale. Siamo tra le prime regioni ad avere un'alta percentuale di vaccinati in base alle dosi che sono state consegnate. Assolutamente non si prefigura quello che potrebbe essere un rallentamento, anzi siamo convinti che a fine agosto arriveremo a quell'immunità di gregge che equivale all'80% della popolazione della nostra regione vaccinata. Abbiamo avuto un aumento notevole di richieste, specialmente nei giovani, devo dire che fino al 22 luglio c'era un momento di stallo nelle prenotazioni, appena c'è stata la richiesta del Green Pass abbiamo avuto un notevole aumento, suddiviso proprio in tutte e quattro le alz e in tutte le prenotazioni sono aumentate di migliaia di richieste. Nei giorni scorsi c'erano stati anche i complimenti della Presidente del Senato che aveva parlato, parlando proprio dell'Hub di Via Tirino, di un esempio da imitare. Sì, con molto piacere ma soprattutto con molto orgoglio e sinceramente colgo sempre l'occasione per ringraziare in modo particolare i sanitari e soprattutto i volontari che hanno organizzato queste sedi Hub importanti per la vaccinazione. Nella nostra regione sono tanti i centri di modello e di punti di riferimento proprio per organizzazione, per requisiti, per strutturazione. La crescita c'è, una crescita prevalentemente nell'ambito dei giovani, di coloro che sono rientrati nella nostra regione da altre nazioni. Quindi abbiamo un virus, se vogliamo definirlo, importato. Attraverso le attività della prevenzione abbiamo messo in atto proprio un approfondimento ulteriore per seguire il tracciamento. Io stesso da parte del Dipartimento, da parte dell'assessorato, ho chiesto una verifica continua e costante da tutte e quattro le ALS con un monitoraggio, se ridere, odierno di quelli che sono poi i risultati e soprattutto un'attenzione particolare.